Io sono Mr Felicità. Dopo la caduta di Bonn, Arianna è andata in crisi. Non fa più niente, non pattena. Non si è mai più alzata dal divano. Qual è il tuo metodo, mister? Per farla alzare dal divano? Due la mantengono per le braccia e un altro che la sostiene da dietro, che è la famosissima tecnica Tiena Magata Tenga. Secondo me, questo è un cialtrone. Sushi! Ha il riso. Ha il riso? Scusate, a me c'entra in mente se me lo portate a zeccoso. Non mi piace sciacquariare. Cioè, la città è zeccoso, ma addirittura un scoccio a turno, ma per una cosa esagerata. Stai sbagliando, oh frata! Secondo me, quando si è da soli, la felicità dura un attimo. Magari se è condivisa, durano pochissimo. Ma l'hai baciata? Sì. Con la bocca? No, gareggio.